Su Bersani ho parlato di discontinuità, Bersani è una persona della quale ho rispetto, però penso che in un tempo come questo bisognerebbe cercare una figura un po' meno di parte. Ieri Renzi diceva che nel confronto che noi abbiamo avuto vorremmo un arbitro e gli abbiamo fatto notare che normalmente gli arbitri non hanno indossato le maglie di una squadra di calcio, insomma se vuoi un arbitro non devi prendere una persona che ha giocato con una squadra, esatto, un capitano e forse questo insomma è un po' il caso e torno al tema anche della discontinuità culturale alla Presidenza della Repubblica perché sembra che ormai la sinistra debba occupare e ha occupato praticamente tutto, obiettivamente se poi si volesse andare a guardare qual è il consenso che questa sinistra ha in Italia, quando Renzi è andato benissimo ha preso il 40% dei voti sul 60% dei votanti che a casa mia è il 20% degli italiani, quindi bisogna avere anche l'umiltà di cercare una figura che, lo dico anche per dire che quando ieri Renzi ha detto io incontro i partiti politici perché voglio cercare un Presidente condiviso, è difficile crederlo, noi siamo andati insomma per dovere di, così insomma per gentilezza ma è difficile crederlo se prima di incontrare le forze politiche si indica ai propri parlamentari di votare scheda bianca nelle prime tre votazioni, che vuol dire che non si vuole eleggere un Presidente della Repubblica con una maggioranza qualificata ma lo si vuole eleggere con una maggioranza semplice e quindi già si sa che il nome sarà un nome divisivo, quindi noi pensiamo che ci voglia un nome meno divisivo se si vuole condividere trasversalmente, su quello che riguarda Grecia, Le Pen e quant'altro sicuramente oggi il tema diciamo di condividere delle sfide, delle battaglie è un tema per noi prioritario anche rispetto alle differenze, cioè tra me e Matteo Salvini possono esserci tante differenze ma abbiamo condiviso delle battaglie, su quelle battaglie bisogna ritrovarsi, ora lo schema centrodestra e centrosinistra è insomma vecchio fino a un certo punto perché alla fine io credo molto nelle idee, penso anche che trasversalmente a quelle idee ci siano delle battaglie sulle quali ci si può ritrovare perché è vero che oggi la sfida, lo direbbe Marine Le Pen e lo dice bene, è tra le oligarchie e i popoli, tra i diritti dei tanti e gli interessi dei pochi e noi ci siamo stati anche trasversalmente, è il motivo per il quale sono stata molto delusa in questi anni, in questa legislatura da molti atteggiamenti del Movimento 5 Stelle che pensavo di poter trovare al nostro fianco, diciamo tra quelli che stanno dalla parte del basso e invece delle volte hanno fatto il gioco di chi sta in alto.